Buongiorno, oggi è lunedì ed è il 19 marzo del 2018 e colgo l'occasione per fare le congratulazioni, gli auguri a tutti i papà, oggi è la festa del papà e per quanti ci tengono a questa festa, per quanti sono attaccati magari agli auguri o magari anche per chi non ci fa caso per niente, però è una giornata importante che ricorda sicuramente la bellezza di essere padri e la bellezza di avere un padre, di aver avuto un padre e quindi grazie a Dio per tutti i padri, grazie a Dio per tutti i papà. E stamattina mentre avevo del tempo per me camminando, stavo ascoltando una predicazione che non parlava assolutamente di quello di cui vi parlerò fra qualche istante, ma il concetto era un po' vago per quanto riguarda il discorso della grazia di Dio, dei meriti di ognuno. Noi tutti sappiamo che la parola grazia significa appunto favore immeritato, c'è questa bellissima espressione di Paolo che scrive ai Romani, al capitolo 5 è scritto giustificati dunque per fede abbiamo pace presso Dio e per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo anche avuto mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio. Tutti quanti noi sappiamo appunto il significato della parola grazia, che significa favore immeritato, cioè tutto quello che Dio fa per noi è un favore immeritato, non perché lo meritiamo, ma perché Lui ci ama. E' già da un po' di mesi che rifletto su questo argomento, perché a volte sentendo alcune espressioni hanno suscitato in me una sorta di malessere, nel senso che molto spesso si è sempre detto, si dice negli ambienti dove si crede appunto nella grazia noi non meritiamo nulla, tu non lo meriti, tu non lo meriti, tu non lo meriti. E a volte queste parole dette anche con un po' di durezza, a volte non di disprezzo, ma con molta durezza. Noi non meritiamo, l'uomo non merita niente, l'essere umano non merita niente. E qualche mese fa io ho cominciato a mettere un po' in discussione questa espressione, non tanto per quanto riguarda il discorso della grazia, ma quanto al fatto dell'essere umano visto come figlio. Ed è vero, quando noi cominciamo a leggere la scrittura in maniera totalmente diversa, sotto una chiave totalmente diversa, cioè con la chiave con la quale Gesù vuole che noi interpretiamo la vita, guardiamo a Dio come padre, quando noi vediamo a Dio semplicemente come Dio, ci rendiamo conto che noi siamo soltanto creature, che siamo frutto della sua creazione, ma non c'è nessuna forma di empatia, nessuna forma di rapporto distante tra creatura e creatore, tra qualcosa che è stata fatta e qualcosa che è sempre esistito. Quando noi invece approcciamo la scrittura, interpretiamo la scrittura, o interpretiamo il nostro rapporto con Dio, vedendo lui come padre, vedendo noi come figli, ci rendiamo conto che a volte certe espressioni non quadrano molto. E stamattina credo di aver avuto finalmente quello che personalmente chiamo l'anello mancante su alcune cose, e cioè che significa che noi non meritiamo niente, noi non meritiamo nulla. Vi immaginate un padre che mette al mondo un figlio e continua a dire tu non meriti nulla, tu non meriti nulla, tutto quello che tu hai è merito mio perché tu non meriti nulla, perché tu sei nato non meritando nulla, sei stato portato al mondo non meritando nulla, tu sei venuto all'esistenza, non meriti nulla, tutto quello che hai te l'ho dato io. Mi rendevo conto stamattina, vedendo e considerando tutto sotto un'altra luce, sotto la luce dell'Abba Padre che Gesù ha presentato ad ognuno di noi, che è l'Abba Padre, la figura dell'Abba Padre che Lui ha rivelato ad ognuno di noi, mi rendevo conto e facevo un po' di mente locale su questa espressione, su cosa è realmente la grazia, che cosa significa. Quando io come padre dico ai miei figli e continuo a dire, continuo a ricordare ai miei figli, voi non meritate nulla tutto quello che avete, per grazia, perché non meritate nulla, mi rendo conto che farei veramente un grande danno, e direi qualcosa di molto duro, e nello stesso tempo di molto cattivo. Cosa significa realmente favore meritato? E vorrei dire qualcosa che probabilmente, magari darà fastidio a qualcuno, cioè l'essere umano di per sé merita di essere felice, merita di stare bene, merita di essere benedetto, merita di essere portato avanti. L'essere umano viene al mondo non per scelta propria, ma perché qualcuno ha deciso di metterlo al mondo. Cos'è la grazia realmente? Cos'è questa mancanza di merito? La grazia è qualcosa che nostro Padre ci dà, ed è vero che noi non la meritiamo, ma non è una mancanza di merito in relazione alla nostra identità, o alla nostra dignità. È una mancanza di merito semplicemente per il semplice fatto che non abbiamo fatto nulla per contribuire a quella cosa che abbiamo ricevuto. non perché non la meritiamo, ma perché non abbiamo fatto nulla per averla. Tutto quello che il Padre ci dà, ci dà esclusivamente per amore, e Lui dona a tutti, senza rinfacciare i doni e la chiamata, dal nostro Padre Celeste, sono senza pentimento. E Lui non ci rinfaccerà mai il fatto che noi non lo meritiamo, perché tutto quello che Lui ha fatto, lo ha fatto per amore. E il concetto della grazia, se vogliamo ancora andare più in profondità, a sviscerare questo principio meraviglioso, straordinario, non ha a che fare con la nostra dignità, e non ha a che fare con la nostra identità, perché da figli siamo nati, e da figli moriremo. La grazia di Dio non ci ha fatto diventare figli, la grazia di Dio ci ha fatto rendere conto che siamo figli. Ed è vero che non lo meritavamo, ma non lo meritavamo non perché non eravamo degni o perché non lo meritavamo in quanto eravamo schifosi, eravamo abbietti a Dio. Non lo abbiamo meritato per il semplice fatto che non abbiamo fatto niente per possedere tutto quello che abbiamo. Tutto quello che abbiamo lo abbiamo ricevuto dal Padre. E quando noi guardiamo a Lui come Padre e ci rendiamo conto che tutto quello che Lui fa, lo fa esclusivamente per amore. Noi lo amiamo perché? Perché Lui ci ha amato per primo e Lui non ci rinfaccerà mai il fatto che noi non meritavamo questo amore. Noi meritavamo questo amore perché siamo fattura sua, siamo opera sua, siamo creature sue, siamo figli suoi. Non lo meritavamo perché il semplice fatto è che non abbiamo fatto niente per contribuire a tutto questo. ma la grazia non va ad esaltare la nostra mancanza di dignità e la nostra mancanza di identità. Semplicemente esalta sempre di più e maggiormente tutto ciò che il Padre ha fatto per noi. È tutto merito suo, è tutta opera sua e noi l'abbiamo ricevuto e tutto quello che noi realizziamo da Lui è per fede. Questa fede non cambia chi eravamo. Questa fede ci fa rendere conto di chi siamo, di chi è Lui nella nostra vita. Ed ecco perché un Padre, un Padre vero, non dirà mai al proprio figlio tu non ti meritavi nulla, però io ho fatto questo per amore. No, un Padre dirà sempre tutto quello che ho fatto per te l'ho fatto per amore e ho fatto tutto mentre tu ancora non c'eri. Nel senso tu non hai contribuito a tutto questo. e io non mi aspettavo che tu lo facessi ma io l'ho fatto semplicemente perché ti amo, perché lo meriti, perché sei mio figlio, perché sei, posso usare un'espressione magari non molto spirituale, ossa delle mie ossa e carne della mia carne. Sei parte di me, sei uscito da me. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, disse Dio al capitolo 1, il Padre degli spiriti, il Padre che ha creato ogni essere umano che vive sulla faccia della terra. Ed è vero che non meritiamo nulla, ma non perché non eravamo degni, ma semplicemente perché non abbiamo fatto niente per contribuire a quell'opera meravigliosa d'amore e di redenzione che Lui ha riversato abbondantemente sopra la vita di ognuno di noi. Gloria al Padre, realmente, Lui è il miglior Padre che possa esistere. Noi come Padre non siamo perfetti, non siamo eccezionali come vorremmo essere, sbagliamo, cadiamo, falliamo, ma grazie a Dio abbiamo un Padre meraviglioso al quale possiamo sempre fare riferimento. Lui è un vero Padre, Lui è il Padre per eccellenza. La vera grazia non ti rinfaccia mai le cose. La vera grazia ti dice tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per amore e anche quando eri lontano io stavo preparando ogni cosa per te. Una buona giornata.